Mico Italia con i suoi macchini di Cente Style è oggi un'azienda leader a livello internazionale del settore della ventilazione, a sede all'onato del Garda dalla quale stiamo registrando questo video per portarvi alla scoperta di un prodotto dalle particolari caratteristiche tecniche e avremo piacere di illustrarvi dettagliatamente, seguitemi! Nel nostro stabilimento ci svolgiamo in fatti di attività principali di assemblaggio di questo tipo, di apparecchi. Questo ha dimostrazione del fatto che la nostra produzione è interamente medinita. Ho il piacere di presentarvi la gamma S-ICAT, fa parte dei nostri ventilatori centrici e personaggi a Palavanti. è una gamma che è stata studiata con destinazione d'uso specifico per aspirazioni di cappe da cucina. La peculiarità di questa macchina è quella di avere la parte della ventola separata come un secco dalla parte del motore elettrico in modo da preservare quest'ultimo da eventuali diposti di grasso o di condensa. Questo aspiratore cassonato è costituito da un telaio principale in estrusi di alluminio ai quali vengono applicati dei pannelli in ammiera con materiale tono sorbente. Il pannello è a doppio spessore, quindi è completamente isolato ed è composto da 6 gamme per una portata d'aria che va da circa 1200 m3 fino a 7000 m3. Entrando nel dettaglio della macchina possiamo verificare il pannello di spezione che serve proprio per poter fare un controllo immediato sullo stato della girante e verificare eventuali depositi di ingrassi. In questa zona si può anche vedere chiaramente la lama che separa la girante dal motore elettrico. Ricordo che questo aspiratore è adatto per il funzionamento fino a 180 gradi in continuo. Nella parte posteriore c'è posizionata una griglia dalla quale si può verificare istentaneamente lo stato del motore elettrico. Questa griglia ha inoltre la funzione anche di raffreddamento dello stesso. Inoltre questi apparecchi sono destinati, ricordo, a un'aspirazione per fumi da cucina. Hanno disponibili una serie di accessori per essere adattati al meglio al vostro impianto, quindi raccordi, reti, interruttori di servizio, supporti equilibranti e tentucci para pioggia. Infatti c'è possibilità di installare l'apparecchio sia in ambienti chiusi che all'aperto. Ringrazio il signor Girelli per averci illustrato nei dettagli e portato alla scoperta di questa serie di ventilatori centrifughi cassonati particolarmente adatti per le cucine industriali, come più volte rimarcato, avendo una temperatura di funzionamento fino a 180 gradi. Ma anche Italia tra le tante si pregia di poter offrire un servizio di assistenza tecnica e anche in questa occasione si è mostrata trasparente e alla portata dei propri interlocutori in linea con corsi di investimenti innovativi nel settore della ventilazione.